Sì, buonasera e benvenuti a Prato 7, la rubrica di TV Prato che fa il punto sulle notizie più importanti della settimana che va a concludersi. Una settimana caratterizzata da tanti episodi di cronaca nera su tutti l'omicidio di Via Firenze con le indagini dei carabinieri che hanno portato rapida tente nell'immediatezza al fermo del presunto omicida, ma poi ancora un incidente mortale avvenuto alle cascine di tavola con vittima purtroppo un giovane ciclista e altre notizie di cronaca, le difficoltà a ricevere gli ammortizzatori sociali da parte degli artigiani. Per quanto riguarda la scuola, le difficoltà di studenti e docenti per questo nuovo inizio di anno scolastico contrassognato dalle misure anti-covid. Ma andiamo con ordine e cominciamo da lunedì scorso con la notizia dell'incidente mortale, la tragedia in Via Traversa del Crocifisso. Tragedia oggi pomeriggio in Via Traversa del Crocifisso dove un giovane ciclista è morto in seguito all'impatto con un'auto vicino all'ingresso del Parco delle Cascine. L'incidente è avvenuto intorno alle 17.30, purtroppo i soccorsi inviati dal 118 si sono rivelati inutili, il ciclista di nazionalità cinese è morto sul colpo. Il ragazzo non aveva con sé i documenti, gli agenti della Polizia Municipale stanno cercando di trovare elementi utili alla sua identificazione. L'automobilista, un connazionale di 39 anni al volante di una Mercedes in regola con la patente, si è fermato ed è stato portato al comando di Piazza Macelli per gli accertamenti alcolemici del caso, visti anche i dubbi suscitati dalla sua condizione psicofisica. Sia il test col precursore, sia il controllo con l'etilometro hanno dato esito positivo. L'uomo, che sarà sottoposto anche a test tossicologici, aveva una quantità di alcol nel sangue quasi cinque volte superiore ai limiti di legge. Insieme alle circostanze, il nuovo reato di omicidio stradale prevede l'arresto obbligatorio in caso di flagranza di reato. Sul posto per effettuare i rilievi è giunta la Polizia Municipale, la strada è stata chiusa, per gestire la viabilità nelle prime fasi dell'accaduto sono intervenuti anche i carabinieri. Secondo i primi accertamenti effettuati dagli agenti di Piazza Macelli, l'impatto è stato frontale. La Mercedes classe 220 ha sbandato andando ad invadere la corsia opposta senza lasciare scampo al ciclista. Assenti i segni di frenata sull'asfalto e significativi i danni riportati alla parte anteriore della vettura, segno che anche la velocità del veicolo potrebbe essere stata sostenuta. Sul posto sono numerosi i cittadini cinesi che si sono fermati ad osservare la scena. Gli inquirenti sperano che tra di loro ci sia qualcuno che possa aiutare ad identificare la vittima dell'incidente. E adesso una notizia positiva che ha a che fare con la qualità di vita dei pratesi. Secondo la classifica nazionale stilata dal quotidiano avvenire, Prato entra nella top 10 del benvivere. A Prato si vive bene, addirittura meglio rispetto ad altre 108 province italiane. A dirlo è la graduatoria del benvivere in Italia realizzata dal quotidiano avvenire insieme alla scuola di economia civile e con il contributo di Federcasse. L'analisi che prende in esame i dati del 2019 e li confronta con quelli del 2018 vede il territorio pratese collocarsi nella top 10 della classifica, per la precisione al nono posto, con un balzo in avanti di ben quattro posizioni. Davanti città come Bolzano saldamente in testa, Pordenone, Trento, Firenze, la prima delle toscane in posizione stabile, e poi Milano, Bologna, Parma e Siena. Alle spalle di Prato un'altra realtà toscana, Pisa, che perde quattro posizioni. Scalando indietro la graduatoria, che considera oltre 90 parametri, non misurando solo la ricchezza economica, ma anche le dimensioni sociali e ambientali delle varie province, troviamo Lucca al 47 posto, Arezzo al 51, Grosseto al 52 e Livorno al piazzamento numero 53. Pistoia si ferma al 63 gradino della classifica, seguita da Massa Carrara al 64, che avanza comunque di nove posti. Ma non tutto appare positivo, se infatti Prato conquista la nona postazione, nella rosa del buon vivere, non brilla allo stesso modo nel focus sulla generatività dei territori, si tratta di quel parametro che combina la vivacità economica e intellettuale con fattori sociali, come la presenza di organizzazioni del terzo settore. Ecco, qui la provincia pratese scende al 35esimo posto, ma soprattutto c'è del passo di 24 posizioni. Le variazioni maggiori si registrano nei servizi alla persona, nella sicurezza e nell'economia. Aumentano i delitti, si riduce il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e il rapporto impieghi-depositi, che passa da 1,47 a 0,87. In diminuzione anche alcuni servizi per la scuola. Ne parlavamo in apertura della notizia che ha segnato la settimana in corso l'omicidio alla Querce con il 44enne Mirko Congera, ucciso a coltellate il ferimento anche della compagna, che per fortuna è riuscita a sopravvivere. È stato fermato nell'immediatezza dei fatti il presunto responsabile. Viviamo in questo servizio di martedì scorsa la cronaca delle prime ore dopo questo fatto di cronaca nera. Tragedia stanotte alla Querce, dove un uomo di 44 anni, Mirko Congera, è stato ucciso a coltellate all'interno della sua abitazione in via Firenze, in una corte nei pressi del circolo I Risorti. Gravemente ferita la compagna di 42 anni, che attualmente si trova ricoverata all'ospedale Santo Stefano. La donna è stata ferita al collo e operata d'urgenza, è sedata e non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri intervenuti sul posto hanno rintracciato il presunto responsabile, che è stato sottoposto a fermo. È stata proprio la compagna della vittima a fare il suo nome all'arrivo dei militari, allertati dai vicini di casa, che avevano udito le richieste di aiuto della 42enne. La persona che è stata individuata è stata sottoposta a fermo da parte del Pubblico Ministero e gli elementi, secondo il nostro giudizio, sono importanti. È stato indicato da una delle vittime, dalla donna. Questa indicazione ha avuto una serie di riscontri anche dalle persone che erano a corso e poi vi erano tracce del commesso delitto trovate a casa della persona indagata. Quindi il quadro, secondo noi, era abbastanza indicativo. L'omicida ha usato un coltello da cucina, sferrando pochi colpi all'indirizzo della coppia. Congera è stato ucciso con dei fendenti nella parte alta del corpo. Quello letale lo ha raggiunto tra il collo e la spalla. L'aggressore, che abita a 300 metri di distanza, ha lasciato il coltello sul posto, poi repertato dai carabinieri, e la porta aperta. Drammatica la scena che si sono trovati di fronte ai soccorritori, tra cui il cugino della donna. Appena sono sceso in corte, pareva essere un figlio, praticamente. Cose che mai viste, sangue dappertutto. C'era mia cugina riversa a terra, mio padre che la soccorriva mia zia, tutti gli anni, che era risperato sul perché, una cosa del genere. Quando siamo andati a vedere il suo compagno Mirko in casa, era una scena vocalizzata, una cosa feroce. Non riesco a capire tanta cattivera, la persona brava, tranquilla, magari timida, proprio, non è niente di cattivo a vedere, insomma, non ho parole, sono sciocco. Il fermato è un conoscente della coppia, rintracciato dai carabinieri nella propria abitazione, una ventina di minuti dopo l'omicidio. Aveva ferite ad una mano. Tracce di sangue sono state trovate nel suo appartamento, che è stato sequestrato assieme a quello divenuto teatro dell'omicidio. L'uomo è stato fermato con l'accusa di omicidio e tentato omicidio. Si tratta di un 43enne italiano, disoccupato, che conosceva la vittima, si è avvalso della facoltà di non rispondere ed è stato portato in carcere. Sono da chiarire al momento i motivi che hanno condotto all'aggressione mortale, che è avvenuta poco dopo la soglia d'ingresso dell'abitazione. L'aggressore si sarebbe presentato attorno a mezzanotte suonando al campanello, subito dopo sarebbe scattata la furia omicida. Al vaglio degli inquirenti, anche i cellulari della coppia e del fermato, per trovare elementi utili ad individuare il movente ed appurare l'eventuale premeditazione del gesto. E adesso la scuola in classe senza banchi è la sorte toccata agli studenti del Copernico che scioperano e dicono siamo costretti a fare lezione seduti per terra. Studenti in sciopero al liceo Copernico, i banchi con le rotelle non arrivano e sette classi quinte su tredici sono costretti a fare lezione sedute per terra usando le sedie come appoggio. È scattata dunque la protesta, ieri di due quinte e oggi di altre due. Gli studenti ci tengono a chiarire che manifestano non contro il dirigente scolastico sul quale non ricade la responsabilità dei ritardi nell'arrivo dei nuovi banchi, ma contro una decisione del Consiglio d'Istituto che al Copernico ha abolito la didattica a distanza e ha optato per le lezioni in presenza sempre e comunque, anche in quelle classi in cui con i banchi senza rotelle non può essere osservata la distanza di sicurezza. Purtroppo questa decisione è stata presa dal Consiglio di cui fa parte un gruppo comunque di docenti, il Preside, un gruppo di genitori e i rappresentanti di istituto che sono soltanto tre e che dovrebbero rappresentare 1500 ragazzi. Per questo motivo io comunque sono convinta che non sia stata presa una decisione che coinvolge l'opinione della maggioranza degli studenti e chiedo più partecipazione e più coinvolgimento insomma in queste decisioni che sono importanti. Gli studenti raccontano il disagio di dover stare questa settimana 4 ore ma la prossima settimana 5 seduti per terra nel tentativo di prendere appunti o addirittura svolgere un compito in classe. Noi per oggi avevamo un tema argomentativo da fare, da svolgere però purtroppo per terra come fai a svolgere un tema argomentativo di due ore nel senso è una situazione un po' particolare, un po' difficile. Lo so che per le prime, per le seconde magari può essere difficile portare per se ora la mascherina però a questo punto se dobbiamo per forza stare per terra oppure fare di data a distanza preferiamo stare se ora con la mascherina in classe ma con dei banchi. Se proprio non c'è verso nemmeno fare lezioni in presenza a quel punto ricorreremo alla DAD perché per adesso stare in terra, non rispettare le norme sanitarie e igieniche è pericoloso anche perché poi stando a terra non rispettiamo la distanza l'uno dall'altra. Il dirigente scolastico del Copernico Stefano Gestri al telefono spiega che l'istituto ha fatto richiesta al ministero di diverse centinaia di banchi con le rotelle gli unici che per dimensioni garantiscano il metro di distanza degli studenti negli spazi a disposizione in Viale Borgo Valzugana. In attesa del loro arrivo previsto entro il mese di ottobre al Copernico è stata sperimentata la didattica integrata nelle prime due settimane. Il consiglio di istituto ha poi deciso a maggioranza di riportare tutti gli studenti in classe ben sapendo, afferma il preside, che questo avrebbe creato disagi. Un altro test conclude Gestri di cui a fine settimana avremmo dovuto riparlare. A febbraio scorso, poco prima dell'entrata in vigore delle restrizioni coronavirus ci fu una rapina alle poste di via Primo Maggio. Ebbene dopo mesi di indagini la squadra mobile è riuscita a dare un volto ai rapinatori. Si tratta di due trasfertisti giunti dalla Calabria che sono stati arrestati. Sono stati arrestati, grazie alle indagini della squadra mobile, i due responsabili della rapina all'ufficio postale di via Primo Maggio dello scorso 28 febbraio. Si tratta di due pregiudicati calabresi giunti dalla provincia di Cosenza per compiere il colpo che fruttò circa 8.000 euro. I due malviventi agirono a volto coperto e minacciarono il personale delle poste con un taglierino. Furono messi in fuga da un carabiniere libero da servizio che si trovava per caso in zona e per poco non riuscì a bloccare uno dei due rapinatori. Le successive indagini della squadra mobile diretta da Alessandro Gallo hanno permesso di accertare il modus operandi dei due trasfertisti giunti a Prado con una macchina presa a noleggio tramite un passaggio a due diverse società e poi autori del furto di un'altra auto nel parcheggio della stazione. Con questa vettura rubata, poche ore dopo, i malviventi si sono recati alle poste per compiere la rapina. Si tratta di un'indagine che ha visto l'impiego di tecnologia applicata alle investigazioni perché abbiamo oltre ad un primo pedinamento elettronico che viene fatto nell'immediatezza dei fatti e consente di acquisire immagini fondamentali che si perderebbero nelle primissime ore se non fossero acquisite, poi di sovrapporre gli spostamenti dell'autovettura agli spostamenti delle utenze che sono state inequivocabilmente attribuite agli indagati, ancorché a loro non intestate. Più questo aggiunto ad ulteriori riscontri di indagine ci permettono di dire che il quadro indiziario è sicuramente grave nei confronti degli indagati. I poliziotti hanno acquisito elementi anche nel corso delle perquisizioni, fra cui il ritrovamento di un giubbino dello stesso modello indossato da uno degli autori durante la rapina. Gli arrestati sono un 32enne con precedenti specifici, oltre che per furto con strappo ed evasione, e un 45enne pregiudicato per reati contro il patrimonio, che era stato arrestato appena quattro giorni fa per violazione della sorveglianza speciale e poi sottoposto ad obbligo di firma. Per entrambi è scattata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Dovranno rispondere, oltre che di rapina e furto, anche di lesioni a pubblico ufficiale per le ferite riportate dal carabiniere che con coraggio, libero dal servizio, li aveva affrontati. È stata un'attività pregevole e per una detta lavori vi assicuro molto difficile quando si tratta soprattutto dei trasfertisti. E quindi siamo contenti che questo privo contributo, questo intervento di slancio del nostro militare sia stato utile, sia stato determinante per il raggiungimento di questo risultato finale. E adesso l'economia con la crisi da coronavirus e l'allarme di Confartigianato per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali. Ebbene, sono oltre 10.000 a Prato gli artigiani che non riscuotono alla cassa integrazione da maggio scorso. Sono 2.306 le aziende artigiane della provincia di Prato che hanno presentato domanda da marzo ad oggi per accedere all'FSBA, il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato, la cassa integrazione del settore. Si tratta di 10.518 lavoratori dipendenti che a causa del crollo economico legato alla pandemia hanno chiesto di poter attingere al fondo di natura privatistica alimentato con risorse delle aziende e degli stessi lavoratori. Un fondo che però, poche settimane dopo il lockdown, è andato esaurito a livello nazionale e che ha reso necessario l'intervento straordinario dello Stato. Però il fatto che questo fondo sia a carattere privatistico finanziato con soldi pubblici ha allungato a dismisura le procedure burocratiche per la loro effettiva erogazione. Di iniezioni di liquidità da parte del Governo centrale ce ne sono state due, una iniziale di 250 milioni e una seconda tranche dello stesso importo che hanno permesso di coprire fino ad una parte di maggio. Il terzo finanziamento, stavolta di 375 milioni, non è ancora stato erogato. Il pressing a livello locale e nazionale aumenta e l'obiettivo è arrivare all'erogazione fisica delle risorse entro la fine di questa settimana. Adesso questi 10 mila lavoratori stanno aspettando ancora quanto loro devono avere da maggio praticamente, siamo arrivati quasi a ottobre, è assolutamente inderogabile che il Ministero svincoli questi 375 milioni di euro che sono bloccati in questo momento appunto al Ministero. si sono verificati casi in cui le imprese stesse hanno cercato di aiutare i propri dipendenti attraverso dei prestiti e quindi perché così poi alla fine è stato necessario fare per dare quello che è lo stipendio. Se riuscissimo ad avere questi soldi nel giro di questa settimana molto probabilmente saremo in grado di erogare nelle prossime buste paga quello che ci aspetta ai nostri dipendenti. Cambio al vertice della Camera di Commercio Pistoia Prato a Luca Giusti succede Dalila Mazzi. Dalila Mazzi, nuovo Presidente della Camera di Commercio Pistoia e Prato. È giunto a compimento il processo di fusione tra le due Camere e stamani il Consiglio dell'ente ha eletto il nuovo vertice. L'imprenditrice, Presidente della rifinizione Nuove Fibre di Montemurlo, ha ottenuto 24 voti favorevoli su 25, una alla scheda bianca. Ho accettato per spirito di servizio e con impegno in un momento particolarmente difficile per l'economia non solo del nostro territorio ma per l'economia mondiale. Mi impegnerò come sono abituata a fare e cercheremo di essere vicina alle imprese e di alleggerire per quanto possibile gli oneri e la burocrazia per lavorare meglio in maniera più semplice perché ora veramente lavorare è troppo complicato. Mazzi ha affermato che condividerà le scelte con la nuova giunta, cinque membri i cui nomi si sapranno tra 15 giorni e che conta sull'apporto del Consiglio formato da 28 consiglieri equamente divisi tra Prato e Pistoia. Le primissime parole sono state di ringraziamento per i presidenti di Pistoia e di Prato che l'hanno preceduta. Per quanto riguarda il nostro territorio Luca Giusti lascia l'incarico dopo otto anni. Completiamo questo percorso con questa grande novità di due camere che si sono unite, che si sono fuse cercando di mettere a frutto tutto quello che sarà possibile ottimizzare con la fusione. Ancora una volta tutto il sistema e tutto il tessuto economico ha dimostrato una responsabilità enorme non andando a scontrarsi su nomi o sulla voglia di mettere bandierine. La grande poi vera novità che questa elezione ha portato è che finalmente alla guida di un ente così importante è stato riconosciuto il valore di Dalila e credo che sia in questo momento l'unica donna presidente della Camera di Commercio di tutto il sistema appunto camerale nazionale. Non solo i problemi con i banchi scolastici per quanto riguarda le lezioni è scattata anche la quarantena in una classe quarta del Datini e dunque si registrano i primi casi di coronavirus anche tra gli studenti pratesi. Una classe dell'Istituto Datini è stata messa in quarantena dall'ASL per un caso di coronavirus. Si tratta di uno studente residente in Val Bisenzio il cui padre è risultato positivo. Il ragazzo ha accusato i sintomi domenica mattina. La sera stessa ha effettuato un tampone a pagamento presso un istituto privato di cui ieri è arrivato l'esito positivo. Il dirigente scolastico Daniele Sant'Agati è stato contattato direttamente dai genitori dello studente e ha così deciso di mandare in isolamento in via precauzionale l'intera classe e i docenti coinvolti. Decisione convalidata in mattinata dall'ASL studenti tutti a casa per 14 giorni i docenti possono tornare invece a fare lezione. Intanto è caos, invallata inizialmente un quotidiano infatti aveva diffuso la notizia erronea che lo studente frequentasse il Pertini di Vernio. Non è niente di allarmante su 1.400 studenti che uno studente prende coronavirus rientra nella logica dei grandi numeri siamo intorno allo 0,6% della nostra popolazione scolastica. Il preside ha affermato che anche dopo questa esperienza l'istituto continuerà a mantenere la possibilità per gli studenti ma non per i docenti di abbassare la mascherina una volta preso posto al banco così come indicato da Comitato Tecnico Scientifico e Ministero. Il vicino di casa di Via Reggiana, l'istituto Dagomari, ha deciso invece di mantenere l'obbligo della mascherina durante le lezioni. Al momento c'è risultato molto utile in un caso particolare che se per ora non abbiamo avuto uno proprio all'inizio se non avessimo avuto le mascherine probabilmente saremmo andati in quarantena con una classe invece assolutamente l'ASL, il Dipartimento di Prevenzione mi ha assicurato che possiamo stare tranquilli. Intanto domani tornano sui banchi i bambini della materna di Comeana e gli alunni di una classe della primaria Nazario Sauro della stessa frazione di Carmignano. Sono risultati negativi entrambi i tamponi dei bambini che avevano un genitore risultato positivo al Covid-19. Dopo due anni e otto mesi di servizio in città si è congedato il questore Alessio Cesareo trasferito nelle Marche. Al suo posto si è insediato in città il nuovo questore Giuseppe Cannizzaro. Ha preso servizio oggi Giuseppe Cannizzaro il nuovo questore di Prato che ha preso il posto di Alessio Cesareo trasferito ad Ascoli Piceno. Per Cannizzaro si tratta del primo incarico da questore dopo una lunga carriera in polizia che lo ha visto fare esperienze a Reggio Calabria nella locale squadra mobile dirigere per dieci anni commissariati nel Regino e nel Catanzarese operando contro le cosche mafiose locali e impedendo loro con l'operazione Cent'anni di Storia di prendere il controllo di importanti attività della zona portuale di Gioia Tauro. Negli ultimi dieci anni Cannizzaro ha poi proseguito la carriera all'interno del Dipartimento di Pubblica Sicurezza incaricato di guidare il gruppo Interforze Centrale per l'Expo di Milano 2015 con i compiti di vigilare sulle possibili infiltrazioni criminali negli appalti per le opere legate all'esposizione universale. Poi, dopo altri importanti incarichi presso il Dipartimento di Pubblica Sicurezza nell'ultimo anno ha diretto il compartimento Polizia Ferroviaria per il Friuli Venezia Giulia da oggi è questore di Prato. È una doppia sfida perché intanto è il mio primo incarico da questore quindi pur avendo, come dicevo una esperienza professionale fatta per i due terzi in questure ma comunque sia la prima volta che guido una questura. La seconda è, come ho detto è derivata dal fatto che io non mi sono mai confrontato con una realtà come questa in cui convivono diverse etnie c'è una multiculturalità. Stamani, dopo i primi incontri istituzionali con il prefetto Lucia Volpe il procuratore Giuseppe Nicolosi e il sindaco Matteo Biffoni il questore Cannizzaro ha incontrato la stampa per un primo saluto alla città. Mi sembra una città che consente a noi di svolgere il nostro lavoro per garantire al meglio la sicurezza ai cittadini confrontandoci con quelle che saranno sia i macrofenomeni delinquenziali che la criminalità diffusa che è quella che poi definisce la sicurezza percepita da parte del cittadino Venerdì scorso abbiamo fatto il punto sulle indagini sull'omicidio di Via Firenze il presunto omicida resta in carcere e non parla di fronte al GIP che ha convalidato il fermo. Continua a non parlare Cristiano Ottavi il 43enne fermato dai carabinieri la notte di martedì scorso 20 minuti dopo l'omicidio di Mirko Congera e il tentato omicidio della compagna Daniela Gioitta. Oggi l'indagato assistito dall'avvocato Gabriele Braschi si è avvalso della facoltà di non rispondere dinanzi al giudice per le indagini preliminari Fallini che ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere Ottavi resta dunque nel penitenziario della Dogaia mentre gli inquirenti cercano di ricostruire i tasselli mancanti per fare luce sul delitto di Via Firenze a partire dal movente La pista privilegiata è quella di un debito che Ottavi avrebbe vantato nei confronti del Congera una piccola somma di denaro che però difficilmente spiega la ferocia con cui il 43enne si sarebbe scagliato contro il conoscente ucciso con fendenti tra collo e gola scagliati con un coltello portato da casa Ad accertare l'esatta causa della morte e il numero di coltellate sferrate dall'assassino dovrà essere l'autopsia sul corpo di Mirko Congera I carabinieri sono al lavoro anche per ricostruire le ultime ore dei due uomini che si erano visti per una bevuta insieme fra le 20 e le 20 e 30 prima di congedarsi appena 4 ore prima del delitto Nell'abitazione di Cristian Ottavi distante appena 300 metri dal luogo dell'omicidio dove il 43enne è stato fermato 20 minuti dopo i fatti i carabinieri hanno trovato tracce di sangue nel lavandino e per terra l'uomo che aveva una ferita ad una mano avrebbe provato a ripulirsi le scarpe con della candeggina il test del DNA sul materiale prelevato dovrà adesso stabilire se il sangue appartenesse alle vittime Ancora la scuola con la presa di posizione della CGL sulla questione degli insegnanti di sostegno a distanza di diverse settimane oramai dall'inizio delle lezioni non ci sono ancora tanti incarichi diverse cattedre sono scoperte proprio per gli alunni che più ne avrebbero bisogno il sindacato denuncia non siamo mai stati così in ritardo con l'assegnazione delle cattedre è servito quasi un mese per completare il quadro delle assegnazioni delle cattedre nelle scuole pratesi fra disagi, rettifiche, proteste e ricorsi ieri l'ufficio scolastico ha pubblicato le nomine per i circa 140 professori di sostegno da destinare agli istituti superiori mentre l'elenco dei circa 90 insegnanti di sostegno per le medie dovrebbe essere online entro domattina da lunedì quindi tutti gli studenti delle scuole pratesi dovrebbero poter contare su un organico al completo compresi circa 400 alunni con disabilità che sono rimasti fino ad oggi fra medie e superiori senza un docente di riferimento è stato un percorso lungo, faticoso e ha creato tanti disagi alle scuole, ai ragazzi e alle famiglie tutte ed è inimmaginabile che il ministero possa delegare gli uffici scolastici territoriali che sono già sotto organico a poter nominare più di 1500 docenti e qui sul nostro territorio sono questi i numeri più o meno delle nomine ha creato un suppulse di lavoro per i funzionari dell'ufficio scolastico che bisogna dire hanno lavorato in maniera indefessa e anche al di fuori dell'orario di servizio proprio per assicurare alle scuole i docenti che mancavano sul territorio da nominare adesso restano solo gli organici covid cioè collaboratori scolastici e insegnanti che permetteranno la suddivisione degli studenti in classi meno numerose la supervisione anti-assembramenti in entrata e in uscita degli alunni e garantiranno sostituzioni in caso di necessità i numeri però non vengono ritenuti sufficienti dal sindacato scuola della CGL I posti covid sono stati dati al territorio e saranno le singole scuole a nominare sui posti covid sia per quanto riguarda il personale docente che per il personale ATA però noi riteniamo che sul territorio questi posti non siano ancora sufficienti perché per quanto riguarda i docenti ad un calcolo così molto approssimativo viene per ogni singola scuola un insegnante a mezzo in più niente di che Alla ripartenza delle attività del catechismo il Vescovo Giovanni Nerbini ha incontrato in San Domenico i catechisti della Diocesi di Prato diocesi che ha predisposto anche un protocollo di sicurezza anti-covid Per insegnare il catechismo ai ragazzi bisogna avere in noi un seme che produca l'improducibile Il Vescovo Giovanni Nerbini ha scelto di utilizzare una metafora botanica per consegnare il mandato ai catechisti in vista della ripresa degli incontri nelle parrocchie della Diocesi di Prato Il momento di formazione molto partecipato si è svolto in San Domenico ed è stato seguito dalla celebrazione della Messa Vanno riscoperte tutte quelle dimensioni che oltretutto non sono direttamente intaccate dalla presenza del covid e che hanno una validità perenne abbiamo parlato dell'importanza di riscoprire la parola di Dio di saperla leggerla di saperla attualizzare l'importanza del nostro amore nei confronti del Signore che diventa poi già la prima testimonianza incisiva nella vita dei ragazzi come dobbiamo mostrare l'amore per i ragazzi stessi e poi il fatto di saperci appoggiare alla grazia di Dio che è il motore che muove tutto e che poi comunica ancora prima e più delle parole L'incontro è stato anche un momento per fare il punto sulle nuove regole con cui ripartire in sicurezza l'ufficio catechistico diocesano in accordo col vescovo e con il supporto della curia ha predisposto un protocollo di sicurezza che ha denominato Sicuri dietro di me Alcune parrocchie già iniziano adesso ad ottobre inizieranno, altri magari hanno posticipato questo appunto per cercare di realizzare bene il protocollo di sicurezza i capisaldi chiaramente sono i tre fondamentali potremmo dire mascherina, distanziamento di sicurezza e igienizzazione ecco le cose fondamentali poi intorno a questo altre cose che dobbiamo cercare di vivere appunto con corresponsabilità ma anche con consapienza per accogliere ragazzi in questo momento dove hanno anche bisogno di tornare al catechismo sicuramente Sicuramente anche i bambini faranno molte domande anche perché la messa non sarà più come prima perché prima avevamo i bambini tutti insieme era incontro anche la messa ora dovranno mantenere le distanze quindi dobbiamo spiegare anche questo a loro i genitori sono chiamati a firmare un patto di corresponsabilità le parrocchie daranno adeguata comunicazione su come si svolgerà il catechismo l'incontro in San Domenico è servito anche come momento di confronto tra i catechisti per comunicare insicurezze e sensazioni proprio paura paura no più che altro sono un po' le sensazioni un po' è il partire all'inizio poi penso che comunque tutti siamo abbastanza addestrati usiamo questa parola e con questo è tutto l'informazione di TV Prato torna domani con il telegiornale del giorno alle 13.45 continuate a seguirci anche con la nostra informazione online sul sito www.tvprato.it grazie dell'attenzione buona serata grazie a tutti